Dopo più di tre mesi di stop, in questo primo giorno ufficiale di zona gialla hanno ripreso a Milano circa 9.000 attività commerciali tra bar e ristoranti, che dallo scorso novembre, con l'arrivo della seconda ondata di contagi, sono stati costretti a chiudere. Abbiamo approfittato di questa occasione per mangiare una buona pizza napoletana. Com'è risedersi finalmente fuori a mangiare qualcosa? Fa strano, sembra una cosa fuori dalle norme, invece era una cosa che prima facevamo di routine. Purtroppo adesso ne assaporiamo ancora di più la possibilità. Oggi su Navigli erano tanti i bar e i ristoranti pronti alla riapertura, con tavolini apparecchiati fuori, grandi menù in vista e soprattutto la scritta aperti a pranzo. Le aspettative non sono rose, perché comunque siamo ancora in una fase molto acuta della pandemia, ma comunque si inizia a vedere una luce in fondo al tunnel. Riaprire dopo tre mesi dà un po' di serenità a tutti noi. Naturalmente stiamo riaprendo solamente a pranzo e ci sono molte categorie che non possono riaprire, perché sono categorie che aprono già dalle 18 in poi. Una partenza che è vista da molti ristoratori come una boccata d'ossigeno, ma che sicuramente non è sufficiente a risollevare uno dei settori più colpiti dalla crisi causata dal Covid. Il pranzo ci dà la possibilità di iniziare a riprendere un attimino la routine del lavoro, ma con lo smart working ancora è bello forte, si sente. Naturalmente la gente ancora deve mettere la testa fuori di casa, quindi il pranzo non è abbastanza. Per noi aperture e chiusure è un po' un casino, nel senso che non è tipo, faccio un esempio, un negozio di abbigliamento che apri e chiudi i vestiti, non hanno scadenza. Mentre noi la preparazione va fatta, i motori vanno accesi, il mangiare se non lo fai fuori va buttato, perché alla gente non si può dare. Quando ci dicono di chiudere abbiamo del mangiare a terra, quindi o si butta o lo regaliamo, altro non possiamo fare.